Buonasera mister, al di là del rispetto che si deve ad ogni avversario, possiamo dire che domani l'avversario più pericoloso sarà proprio il tuo rito? Ma è quello che mi sono raccomandato coi ragazzi, nel senso che come hai detto tu giustamente rispettiamo la Pistoiese perché comunque viene da prestazioni buone, anche magari non coadivate dal risultato perché comunque abbiamo visto delle partite, per dire a San Marino hanno fatto una grande partita, purtroppo per loro hanno perso e domenica comunque hanno pareggiato a mezzo l'ara facendo una buona gara, è una squadra che è in continua evoluzione perché c'è un continuo via vai di calciatori, quindi difficilmente decifrabile sia come sistema di gioco che come atteggiamento, anche se ho visto da parte loro spesso un atteggiamento aggressivo e quindi un po' di preoccupazione c'è sicuramente, nel senso che non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa squadra, è una piazza blasonata quindi ci sarà comunque gente, vorranno fare tutti i costi e il risultato perché comunque il loro obiettivo è salvarsi e quindi la classica partita in cui noi abbiamo tutto da perdere, diciamo la verità, dobbiamo essere veramente bravi ad avere prima cosa l'atteggiamento e lo spirito giusto, pensare a noi stessi a fare la nostra partita e cercare di mettere in mostra le qualità che penso in questo momento senza essere presuntuosi forse abbiamo qualcosa in più di loro, le qualità tecniche intendo, poi lo sappiamo come ho sempre detto che come spesso capita nel calcio le qualità tecniche non bastano, ci vuole tanta altra cosa, i ragazzi da quel punto di vista sono maturi, mi sembrano maturi, hanno un atteggiamento positivo e dobbiamo avere quello, positivo, pronti alla guerra, alla battaglia e fare quello che sappiamo fare in campo poi. Ecco un po' ti preoccupa comunque questa gara che per certi versi può assomigliare alla trasferita col Borgo Sandonino, ma sappiamo tutti com'è andata a finire. Ai ragazzi hai detto benissimo tu, inizio settimana gli ho detto la stessa identica cosa, una partita, una domenica che sulla carta ti potrebbe essere favorevole come poteva essere a Sandonino si è rivelata poi negativa perché noi abbiamo pareggiato e quindi abbiamo perso dei punti rispetto a chi ci precedeva e non vorrei che ricapitasse la stessa cosa, dobbiamo essere bravi, a Sandonino siamo stati sfortunati ma anche poco bravi nel capitalizzare soprattutto le occasioni inizialmente, non dobbiamo essere fatalisti ma dobbiamo essere noi a incidere sul risultato e non farla decidere dagli episodi e dalle decisioni arbitrali che purtroppo ci sono e a volte ci sono negative. Ecco anche perché al metto di quello che è stato detto ieri dall'ora allenatore che è andato in conferenza ha detto non è nelle nostre corde difenderci, avremo delle difficoltà, il fornici è superiore quindi tanto vale fare una gara risoperto e giocare l'attacco quindi troverete un avversario che sicuramente vi aggredirà giocando anche in casa. Certo, infatti dobbiamo essere bravi, come ho detto abbiamo visto, è una squadra di una squadra che comunque ha di capito, ripeto, dei risultati negativi che ha fatto nell'ultimo periodo, ha sempre fatto delle buone prestazioni, è una squadra aggressiva quindi che ti fa giocare poco ma da quel punto di vista lì mi fa piacere, nel senso preferisco una squadra così piuttosto che una squadra che si chiude e difende ad oltranza, quindi ci dobbiamo giocare la nostra partita, dobbiamo stare attenti a tutte le situazioni perché comunque hanno dei giocatori davanti e sugli esterni validi che possono determinare la partita ma i giocatori più buoni ce li abbiamo anche noi e validi quindi io credo che la classifica a questo è un'altra cosa, ma pensare a noi stessi e andare in campo come se affrontassimo il Ravenna, con lo spirito come se affrontassimo il Ravenna e il rispetto come se affrontassimo il Ravenna. Sì, all'andata era la Pistoiese, Viva Ricotta, Facundo Market, Piscitella, questa volta ha fatto una squadra di ambiente opposta, se vogliamo anche in realtà modesta, ecco dal punto di vista della metodologia del lavoro, come cambia durante la settimana l'approccio alla partita, è diverso oppure è lo stesso? Ma no, chiaramente noi lavoriamo sempre in settimana cercando di migliorare nelle due fasi, chiaramente avendo riferimenti della squadra avversaria, lavorando sulla costruzione del gioco per cercare comunque di imporre un altro gioco e sulla fase difensiva per cercare di non far giocare gli avversari, come ho detto prima è stata una settimana tra virgolette un po' più complicata perché non abbiamo grandissimi punti di riferimento, nel senso che nelle ultime 3-4 partite hanno sempre cambiato sistema di gioco e quindi ai ragazzi c'è stato un lavoro ancora più particolare, ancora più complicato perché abbiamo dovuto simulare le tre o quattro situazioni che si possono verificare e lì dobbiamo essere bravi noi a capire subito come possono giocare e a fare quello che abbiamo provato in allenamento per cercare come ho detto prima di imporre il nostro gioco e allo stesso tempo di limitare le loro giocate. Ecco dal punto di vista degli indisponibili, domenica si è fermato Drudi, se non erro che dovrebbe essere fermato a disposizione, Merlonghi anche penso, spero sia meglio della settimana precedente, ecco come è la situazione attuale? No, la situazione è abbastanza buona, a parte il problema Checchi che doveva rientrare e stamattina invece si è presentato al campo con un virus e quindi non so se lo avremo a disposizione domani, quindi quello è un peccato perché comunque perdiamo anche Drudi che comunque è un'assenza importante, chiaramente Gaiola che è squalificato, però rientra Maggioli dalla squalifica, Ballardini ha una settimana in più di lavoro sulle gambe, Prestiani anche, quindi mancherà Rossi che anche lui è un'assenza comunque di peso, anche se Visani ha dimostrato comunque di poter dire la sua parte, quindi sono preoccupato tra virgolette perché so che chi affronterà, chi giocherà al posto di alcuni giocatori sicuramente farà la propria parte, chiaramente cerchiamo di recuperarli il più possibile e siamo sulla via buona, peccato per Checchi che ha avuto questo problema stamattina. Il clima di contestazione che si respira nell'ambiente pistoiese potrebbe indirettamente agevolarvi? Ma tra virgolette sì, nel senso che comunque è sempre brutto per un giocatore andare in campo e i tifosi, i propri tifosi, quando i propri tifosi contestano, anche se credo sia più una contestazione verso la società che verso i propri giocatori, però noi dobbiamo essere bravi a non dargli fiducia, chiaramente a partire con l'atteggiamento giusto come ho detto prima, perché comunque sicuramente hanno delle difficoltà dovute ai risultati che non vengono, è innegabile, non si può sicuramente tralasciare questo aspetto e dobbiamo essere bravi noi a non dargli quella fiducia che comunque stanno cercando di trovare con le prestazioni, perché ripeto hanno fatto delle buone prestazioni nelle ultime partite. Mancandoti due centrali importanti e avendo in elenco Taffa e Maggioli a livello di over, pensi di poter cambiare un modulo di giocatore tattico, metterti a tre, a quattro? A volte l'abbiamo fatto a tre, è chiaro che adesso tre centrali non li abbiamo, quindi non c'è Drudi e probabilmente non ci saranno neanche i Checchi, ci sono rimasti due centrali, quindi credo che andremo avanti con la difesa quattro, è ritornato Graziani dalla selezione a via Reggio e quindi meno male, non abbiamo un centrale di ruolo se non avevamo un altro centrale di ruolo, infatti domenica scorsa abbiamo adattato Masini negli ultimi minuti in quel ruolo e quindi sono abbastanza sereno da quel punto di vista. In bocca al lupo! Grazie, abbiamo raggiunto!